Chi siete? Cosa caratterizza il vostro territorio e il vostro ente in ambito innovazione e digitale? Benissimo, buongiorno a tutti. Sono Chiara Cavalli e rappresento l'Unione della Romagna Faentina. L'Unione della Romagna Faentina è composta dai comuni di Prisighella, Casola Valsegno, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo. Precedentemente era un'unione solamente a tre comuni, i comuni colidari, ma dal 2012 si è concretizzata l'unione a sei comuni. Complessivamente la nostra popolazione è sugli 88.500 abitanti, maggiormente concentrati a Faenza e gli altri comuni sono comuni dove la popolazione è inferiore ai 10.000 cittadini. Casola Valsegno è il comune più piccolo con 2.500 abitanti. Ovviamente questo crea delle difficoltà in merito alla gestione di tutti quanti questi enti, ma la peculiarità dell'Unione della Romagna Faentina sta nel fatto che tutti quanti i comuni, fin dall'inizio, decisero di conferire tutte le funzioni all'Unione e questo si è concretizzato operativamente nel 2018. Questo quindi favorisce tutti quanti i processi di revisione organizzativa, ma ha favorito anche una strategia informatica unitaria. Quali sono stati i punti di forza interni all'ente e i punti di difficoltà e debolezza interni? Senz'altro dobbiamo partire alla primissima implementazione su Payr per il SUAP e tutti quanti i comuni erano già attivi tra il 2014 e il 2015. Successivamente, a seguito anche dell'accoggenza normativa che prevedeva l'implementazione della piattaforma Pago.pia per tutti gli enti, senz'altro abbiamo attivato un piano che potesse comunque favorire l'obiettivo normativo. Il percorso quindi è stato articolato e senz'altro complesso fin dall'inizio. Inizialmente abbiamo avuto delle difficoltà di programmazione, ma soprattutto anche una difficoltà di interlocuzione con i vari servizi, dai finanziario a quelli più operativi di back office. Poi la svolta l'abbiamo avuta l'anno scorso, nella primavera dell'anno scorso, dove il settore finanziario ha dedicato una risorsa a questa problematica. Quindi questa persona si è interfacciata sia con il servizio informatica che con le strutture di back office che gestivano ovviamente l'emissione dei pagamenti. Questo ci ha permesso di avere una programmazione molto puntuale e questa programmazione puntuale si è susseguita nel tempo con risultati a nostro avviso di grande soddisfazione. Il dialogo comunque continua per portare a termine l'intero piano. A volte abbiamo avuto delle difficoltà con i nostri fornitori, soprattutto l'anno scorso non erano ancora pronti a darci servizi su Pago.pa. Ci è trattato di attendere con pazienza che comunque anche loro adottassero il nuovo strumento di pagamento e ci dessero supporto per l'implementazione. Ovviamente supporto l'abbiamo ricevuto anche da Regione e da Lepida nella fase appunto della definizione di tutti quanti i meccanismi più o meno complessi per l'attivazione dei pagamenti. L'altra cosa è che spesso anche i pagamenti sono stati una conseguenza diretta delle piattaforme software che abbiamo sostituito, come per esempio nel caso dei servizi all'infanzia e dei servizi alla scuola. Questo ha comportato in alcuni casi anche la revisione dei processi produttivi e una maggiore consapevolezza soprattutto delle persone del processo. Un punto di debolezza a mio avviso è tuttora la marcanza di una struttura organizzativa che potesse occuparsi proprio della revisione dei processi. Questo secondo me avrebbe favorito ulteriormente quel gran processo di trasformazione digitale che comunque ci viene richiesto. Altri punti secondo me come dicevo è l'autonomia che è stata guadagnata dai servizi di back office. Ad oggi molto più pronti nel comprendere l'aspetto delle entrate ma soprattutto pronti anche ad attivare velocemente il recupero crediti qualora comunque non ci sia da parte del cittadino una risposta pronta. Permangono comunque delle criticità legate soprattutto alla riconciliazione dei pagamenti e quindi alla rendicontazione. Come avete portato a bordo i diversi comuni con le loro peculiarità organizzative e tecnologiche? Senz'altro diciamo il nostro sviluppo su Paco.pia è stato favorito dalle scelte politiche intraprese dalle nostre amministrazioni. Come dicevo sono state amministrazioni che hanno puntato in alto cioè volevano sostanzialmente che l'Unione si occupasse della gestione di tutti quanti servizi. Dal 2015 al 2018 tutti i servizi sono stati conferiti in Unione e questo ha permesso comunque di avere sia una struttura unica dal punto di vista del software ma soprattutto anche una visione unica per quanto concerne lo sviluppo di tutti i processi produttivi. Quando parlo di struttura unica vuol dire un unico settore finanziario che gestisce tutte le problematiche contabili e finanziarie dell'ente quando dico unificazione dei sistemi informativi dico un sistema unico per esempio per gli aspetti contabili e non solo. Quindi per noi non è stato un problema riuscire a portare a bordo i comuni. Il problema nostro era imparare tutti a lavorare alla stessa maniera, lavorare tutti all'unisono. Quello è stato il nostro problema e in alcuni ambiti stiamo ancora lavorando per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Quindi il processo di digitalizzazione dei pagamenti si è inserito in questo contesto già vocato al cambiamento. Per noi il cambiamento è stata una necessità per poter sopravvivere nella gestione di tanti comuni contemporaneamente più l'unione quindi settenti che dovevano comunque in un certo qual modo funzionare. Ovviamente le realtà contabili erano differenti ad esempio l'assenza di conti dedicati nei comuni piccoli così come le modalità di gestione. Però piano piano abbiamo unificato i processi, continuiamo ad unificarli e quindi siamo arrivati ad un risultato di soddisfazione. Ad ora, nella vostra esperienza, quali sono i risultati maggiormente apprezzabili, quelli sui quali state misurando un cambiamento. Immagino sempre in ambito di pago PA, quindi dei pagamenti. In ambito quindi di pagamenti noi abbiamo attivato 130 pagamenti con pago PA, imposta di soggiorno, violazione del codice della strada, il SUAP, i servizi scolastici, servizi a cittadino, la Tari, la DTL e via dicendo, sia in modalità 1 che in modalità 3 che è spontaneo, che sono le classiche tipologie del pago PA. Dobbiamo ancora implementare alcuni pagamenti per quanto concerne i servizi cimiteriali, il sociale e gli ogni redilizi, però contiamo di realizzare tutto entro l'anno. Da parte dei cittadini, senz'altro, c'è stato l'apprezzamento di questi servizi, soprattutto all'inizio dell'anno scorso, quando abbiamo implementato i servizi all'infanzia, senz'altro molti genitori si sono complimentati del servizio reso, che comunque copre a 360 gradi la digitalizzazione dall'iscrizione fino al pagamento delle rette. L'altra cosa di soddisfazione è stata quando la collega del settore finanziario ha pagato la Tari utilizzando Satispay e mi raccontava che quindi questo è stato elemento di grande soddisfazione, ma ancor di più dopo quando alcuni giorni non si ricordava se l'aveva pagato o meno e andando a leggere con il QR code il pagamento ha verificato che effettivamente il pagamento era stato fatto e quindi noi notiamo che comunque ad oggi alcuni cittadini, forse più evoluti di altri digitalmente, proprio si aspettano il servizio digitale, vogliono il servizio digitale e quindi questo per noi insomma è anche motivo di sviluppo per poter andare avanti. Senz'altro i risultati ottenuti anche, come dicevo prima, una maggiore consapevolezza degli operatori interni e le variazioni organizzative ed operative che si sono attuate per procedere spediti. Senz'altro rimangono comunque delle, ci sono senz'altro dei benefici sull'aspetto contabile che sono legati anche a un, ovviamente l'assenza di errore nel pagamento digitale e quindi minore attività per i rimborsi in caso di somme malversate oppure nel caso di rimborsi per conti correnti sbagliati. L'altra cosa che il versamento sul conto corrente dell'ente delle somme pervenute dai PSP cioè tipo i tabaccai, arrivano in maniera aggregata e quindi comportano un minor lavoro da parte delle ragionerie anche se dobbiamo ancora sistemare i singoli pagamenti e quindi per adesso non siamo ottimali. L'altra cosa è l'integrazione dei verticali con la piattaforma Pago.pa perché come dicevo prima permette una piacevole verifica delle rendicontazioni da parte dei back office. Tutto sommato quindi ritengo che gli indicatori siano comunque tangibili ma l'altra cosa che mi viene da dire in questo sistema di revisione digitale è che comunque noi tenendo monitorato anche con la nostra agenda digitale e tutto quanto il sistema riusciamo comunque ad avere una rendicontazione e di rendicontare anche al cittadino quello che stiamo realizzando. Personalmente la cosa che mi dà maggiore soddisfazione è vedere che pian piano l'agenda digitale locale dell'Unione di Romagna-Frentina va avanti, i progetti e i programmi vengono realizzati. Ciò rappresenta a mio avviso l'indicatore tangibile che stiamo procedendo a costruire una sorta di ecosistema digitale in sintonia con le attese del legislatore, con le attese dell'amministrazione ma anche a favore della cittadinanza del nostro territorio e dei colleghi. La rendicontazione in termini di risultati ottenuti e azioni concluse può essere verificata annualmente dai cittadini sia partecipando al piano attuativo delle agende digitali ma anche andando sul sito dell'Unione di Romagna-Frentina e verificare i vari programmi e i vari piani come pian piano si sono realizzati nel tempo. E adesso, idee per il futuro prossimo? Allora, senz'altro attivare, cioè concludere quindi l'attivazione di tutte le entrate sulla piattaforma Pago.pia e puntare ad una migliore rendicontazione. Migliore rendicontazione che anche questa tendiamo, vorremmo realizzarla entro l'anno, sia per la revisione di quello che è il cruscotto di Lepida nella revisione dei pagamenti e anche per l'integrazione che abbiamo pianificato con il sistema contabile. Altro punto focale sul quale ci stiamo operando è l'attivazione della messaggistica sulla PIO e anche questa contiamo di metterla a punto nel giro dell'anno e continua comunque anche la parte di revisione dei processi produttivi. Altra cosa che vorremmo fare è sensibilizzare maggiormente i cittadini nell'utilizzo dei sistemi digitali e su questo puntiamo molto alle iniziative di comunicazione che Regione Lepida faranno ma speriamo molto, anche puntiamo molto, ma questo per il programma dell'anno prossimo, ai programmi di servizio civile che abbiamo progettato finalizzati ad attivare processi formativi per i cittadini meno digitali e a dare a questi anche un supporto interattivo per renderli sempre più esperti diciamo così nel dialogo con la pubblica amministrazione. Altra cosa che abbiamo in programma appena finita la parte dello sviluppo delle entrate su Pago.pa è focalizzarci ulteriormente su quelli che sono i servizi digitali che diamo al cittadino. Grazie a tutti.